Mi chiamo Marco Molinari, sono fondamentalmente uno storico, nel senso che ho studiato e insegnato storia per molti anni. La mia formazione è quella di contemporaneista fondamentalmente. Al momento il mio legame con la società operaia di Torre Pellice è di interesse di studio. Sto studiando e ricostruendo la storia in specifico di questa società. Comincerei sgombrando il campo da un equivoco linguistico che può nascere ma che probabilmente avete già visto anche nell'analisi di altre società di mutuo soccorso. Cioè il termine operai applicato a quelle società dei metà ottocento e dei primi decenni della seconda metà dell'ottocento non ha niente a che vedere sociologicamente con quella che noi oggi chiamavamo forse genericamente classe operaia. Cioè loro stessi nei regolamenti della società, di questa società in specifico, definiscono operaio colui che lavora in proprio, che svolge un lavoro tendenzialmente manuale ma anche commerciale, che gli consente un reddito decisamente diverso da quello di un operaio dipendente di uno dei primi opifici che sorgevano in zona, che peraltro erano ancora molto pochi. Cioè i fondatori sono, ma non so, oggi li definiremo piccola borghesia, alcuni oggi li chiameremo forse partite IVA per usare un termine molto contemporaneo. Sembra che i loro dipendenti non possano entrare in questa società, ma soltanto i titolari di un'attività che la svolgono in proprio. Io mi sono molto divertito ad andare a vedere la lista dei 60 soci fondatori, 1851, prima riunione, 60 persone, sono panettieri, sarti, commercianti di tessuti, muratori, ma non intesi come il manovale, intesi come il capomastro e così via. Il fondatore principale, il promotore, che si chiamava Michele Long e che aveva avuto un'esperienza significativa presso la società di Pinerolo, per esempio, era un signore che in Torre Pellice possedeva dei forni, possedeva un mulino, non per tutta la sua vita ma per una parte della propria vita, e possedeva una rivendita di pane. Questa era l'immagine generale. I soci si dividevano in due categorie. C'erano i soci effettivi, che erano questa tipologia di persone, e poi c'erano i soci onorari, che non potevano essere ammessi come soci effettivi in quanto non svolgevano un'attività di questo genere, ma erano tendenzialmente intellettuali o liberi professionisti ma di alto livello, medici, farmacisti, eccetera. Questi però potevano entrare nella società con il ruolo appunto di socio onorario e spesso erano anche soci finanziatori. Cioè la cifra che loro dovevano versare era molto più alta di quella dei soci. La società operaia di Torrepellice nasce nel 1851, cioè tre anni dopo che gli statuti albertini del 48 avevano reso possibile legalmente il diritto di associazione, con delle restrizioni notevoli, ma comunque prima questo diritto non esisteva, c'era tutta una serie di riferimenti al periodo napoleonico che poi era tornato con la restaurazione invece alla chiusura totale, eccetera. 1851. In una casa privata si incontrano 60 persone. Queste 60 persone sono del tipo che vi ho descritto prima, cioè sono tendenzialmente degli artigiani, dei piccoli commercianti, eccetera. Si incontrano su iniziativa di due persone principalmente. Uno Michele Long, un valdese che era originario della Valchisone, era stato per anni a lavorare a Pinerolo come garzone di panetteria, poi si era trasferito a Torrepellice pensando di aprire un'attività improprio. E l'esperienza fatta nella società operaia di Pinerolo, che è di due anni e mezzo più vecchia, è del 48 direttamente, eccetera, pensa di riportarla a Torrepellice. Il secondo invece si chiama Domenico Alessio, è un cattolico, proviene da tutt'altra parte del Piemonte, non ha nessun riferimento fisico e generazionale con questa zona, ma arriva a Torrepellice come capomastro dell'impresa che ha avuto da casa Savoia l'incarico di costruire la chiesa valdese, quella che adesso è la chiesa mauriziana, che magari avete anche visto all'ingresso del paese, eccetera, eccetera. Quindi sono due personaggi di un certo rilievo anche sociale, evidentemente, all'interno del mondo del lavoro. Perché si riuniscono? Perché decidono di creare questa associazione? Perché pur essendo persone, soggetti sociali relativamente benestanti, cioè senza affanni quotidiani dell'esistenza, sono anche tutte persone che nel caso di un incidente, una malattia, eccetera, non hanno nessun tipo di copertura. Tenete presente, teniamo presente tutti che allora l'attistato sociale non si parlava proprio, non esisteva assolutamente nulla in questa direzione. Quindi il panettiere che avesse dovuto stare assente dal lavoro per una malattia più o meno grave per 15 giorni, per 15 giorni non avrebbe percepito reddito. E naturalmente su una famiglia, soprattutto su una famiglia come quella di Michele Longo, che aveva sei figli, poteva essere piuttosto pesantino, evidentemente. Mettono insieme un gruppo di persone, molto eterogenee come professioni, però appunto tutte persone con un lavoro fondamentalmente autonomo. Mi viene in mente che per esempio alcuni sono anche allevatori. E lo scopo finale è quello di darsi tutela reciproca in caso di malattia. Cioè è una specie di mutua privata, fondamentalmente, almeno all'inizio. Poi la società crescerà e si muoverà anche in altre direzioni, come quella dello sviluppo culturale, dell'assistenza sanitaria, anche ai malati cronici, eccetera, eccetera. I dipendenti, i garzoni, eccetera, o gli apprendisti che lavoravano presso il panettiere Long, come guidati dal capomastro Alessio, non entrano nella società, anche perché per loro la cifra che veniva versata mensilmente, che pur era molto bassa, costituiva comunque uno sforzo notevole. Allora, all'inizio loro versavano una lira al mese. Una lira corrispondeva a qualche cosa più del salario di una giornata di un lavoratore dipendente ordinario. Teniamo però presente che con quella lira il lavoratore dipendente ordinario riusciva a malapena a campare se stesso, eventualmente, una moglie o un figlio. Quindi non poteva permettersi di pagarla, perché sennò avrebbe avuto un giorno di digiuno, detto proprio molto semplicemente. Vanno avanti in questo modo per un po' di tempo. Poi alcuni di loro si spostano su posizioni, non so se definirle più avanzate, quel che è certo è che tra di loro si chiamavano conservatori progressisti. Cioè, qualcuno che qualche anno più tardi ha scritto o ha fatto dei cenni storici sulla loro storia li divideva già decisamente in un gruppo di conservatori e un gruppo di progressisti. Tutto questo non va in nessun modo inteso come politico, ma riguardava soltanto il modo di intendere il funzionamento interno della società. Di politico non c'era nulla. E una delle cose che la società ci ha tenuto a chiarire fin dall'inizio, fin dal primo regolamento, eccetera, la società è fondamentalmente apolitica. Anzi, non solo fondamentalmente, è assolutamente apolitica. È legata alle leggi esistenti, alle leggi dello Stato, prima del Regno di Savoia, poi del Regno d'Italia. obbedisce a quelle leggi, non contesta in nessun modo la legittimità dell'autorità pubblica, eccetera, eccetera. Questo perché inizialmente la situazione è una situazione in cui i soggetti sociali non sono tali da voler contestare. in un secondo tempo perché entrano a far parte dell'associazione come soci onorarie prima e poi diventano soci effettivi, eccetera, personaggi di tutto altro genere, come per esempio il pastore Bert che arriva a entrare nella società nella prima parte degli anni 70, sempre dell'Ottocento ovviamente, e che porta delle grosse novità. Grosse novità che però anche queste non hanno nulla di politico in senso stretto. I riferimenti del mondo intellettuale che si muoveva intorno alle società operaie era un riferimento legato moltissimo al senso del dovere, al senso di appartenenza inteso come ordine e disciplina e in qualche misura legato alla cultura anglosassone cioè quella delle chiese di alcune chiese protestanti anglosassoni che cominciavano a occuparsi delle condizioni di quello che poi poco più avanti si sarebbe chiamato proletariato che ancora non era nella società ma che premeva pian pianino per poter entrare, per poterne far parte, ma sempre in una posizione di sostanziale assistenzialismo, mai di sviluppo politico. Il concetto di classe non compare mai nel linguaggio della società operaia di Torrapellici almeno fino al 1880. Le procedure interne della società almeno per i primi decenni sono di esclusivo mutualistico economico, mutualismo, scusate, economico. Cioè in caso di malattia di un socio, quel socio è tutelato dalla cassa comune che viene raccolta attraverso una quota mensile, anzi addirittura all'inizio per i primissimi tempi la quota è settimanale, 0,25 centesimi perché probabilmente versare una lira tutta in una volta poteva essere un peso persino per l'oro. Poi però dopo un po' di tempo scoprono che raccogliere una lira al mese è molto più comodo che non raccogliere 25 centesimi. Su questo può essere interessante sottolineare anche come era organizzata al suo interno l'associazione. L'associazione era divisa in squadre legate fondamentalmente alla professione di ciascuno degli associati. È un residuo delle vecchie corporazioni che erano sparite con l'epoca napoleonica ma di cui restava ancora qualche traccia evidentemente. Ogni squadra aveva un proprio caposquadra che era incaricato di raccogliere i versamenti mensili della sua squadra e poi di consegnarli nelle mani di un segretario. I soci eleggevano un presidente ed un vicepresidente che all'inizio rimanevano in carica per sei soli mesi perché c'era ovviamente il timore che qualcuno ne approfittasse prendesse il potere e utilizzasse l'associazione per i propri scopi personali eccetera. Quindi la durata era molto breve. Allo stesso modo la direzione che era composta da normalmente un membro per ogni squadra era eletta per un periodo un po' più lungo ma mi pare che non si superasse l'anno. Poi questa cosa cambierà dei presidenti passeranno a un anno ma non ci saranno mai almeno nei primi decenni incarichi lunghi. In realtà poi come sempre fatta la legge ha trovato l'inganno nel senso che se uno è presidente e l'altro e l'altro suo amico è vicepresidente alle elezioni successive il vice si presenta come presidente e viceversa. E questo è perfettamente legittimo e possono anche andare avanti così non dico all'infinito infatti non succede però possono andare avanti. Qualcuno qualcuno è stato presidente fino agli anni 70 per sette volte. Il numero dei membri del comitato direttivo almeno inizialmente dipendeva dal numero delle squadre. Uno per squadra due per squadra dipendeva dai periodi erano comunque parecchi gli incontri della direzione erano degli incontri belli sostenuti insomma non erano non erano quattro gatti era un certo numero di persone. c'è un momento di profonda crisi perché poi l'associazione dopo l'entusiasmo iniziale avrà un periodo di crisi che la porterà quasi a morire poi riuscirà a recuperare eccetera c'è un periodo in cui i soci sono in tutto 25 e probabilmente non dico che tutti i 25 sono nella direzione ma quasi cioè è una direzione che pensa fondamentalmente alla gestione di se stessa a quel punto i ruoli sono molto chiari e molto definiti il ruolo più interessante è quello da cui sono partito per questo discorso che è quello del segretario che è l'unico di tutta la dirigenza dell'associazione il cui incarico non ha limiti temporali e che viene pagato per quello che fa perché fa un lavoro complicato perché non è solo segretario è anche tesoriere quindi da un lato svolge l'attività di segretario cioè fa i verbali delle riunioni della direzione delle riunioni delle assemblee assembleari tiene la corrispondenza con le società con sorelle eccetera eccetera dall'altra è il soggetto che raccoglie dalle diverse squadre dai diversi caposquadra tutti i fondi e ne fa l'uso che ne viene ritenuto necessario cioè crea una cassa generale che poi spesso non rimane in semplice deposito viene investita in quelli che oggi chiameremo titoli che allora erano obbligazioni bancarie e cose di questo genere ed è anche colui che ha la responsabilità di versare i sussidi ai malati previo però controllo che i malati siano davvero malati ma questo spetta al segretario insieme al capo della squadra il quale capo della squadra a questo punto ha un doppio ruolo da un lato è il controllore di coloro che fanno parte della sua squadra dall'altra però neanche colui che deve tutelarli nel senso che chi è capo squadra va a trovare un malato per controllare che sia malato si accorge che è davvero malato poi lo deve assistere non lo può abbandonare a se stesso tendenzialmente le squadre non erano però molto molto grandi che io credo che 12-15 persone al massimo nei periodi di massima fioritura come numero di iscrizioni che all'inizio appunto sono 60 l'anno dopo diventano 170 rotti e poi un po' alla volta si abbassano fino ad arrivare addirittura ai 25 e riprenderanno in pieno a crescere nel momento in cui per esempio un presidente un tale Goss avrà l'idea geniale di imporre che l'assistenza ai cronici diventi obbligatoria per l'associazione e non più quello che come era prima a discrezione della direzione a seconda eccetera e questo porta molta gente a dire beh a questo punto mi conviene iscrivermi perché se mi faccio male diventano che so io paralitico almeno ho un sussidio permanente cioè man mano che cresce l'offerta cresce anche l'adesione le ragioni dell'associazionismo mutualistico sono estremamente varie direi che la prima quella primaria per rimanere in un ambito che era del tutto estraneo questo tipo di mutualismo cioè un'interpretazione di tipo marxista è quella economica cioè io posso aver bisogno mi tutelo insieme ad altri non posso tutelarmi da solo non mi metto insieme ad altri perché mi piacciono perché mi sono simpatici perché sono miei correligionari infatti per esempio la società di Torre era assolutamente ecumenica c'erano valdesi c'erano cattolici a un certo punto daranno una mano anche più avanti durante il fascismo ci sarà un momento in cui daranno una mano degli ebrei che non saranno soci ma verranno comunque aiutati in qualche forma in qualche misura eccetera poi però man mano che l'associazionismo cresce di numero e soprattutto man mano che entrano nelle società personaggi di una provenienza culturale diversa pastori evangelici intellettuali di vario tipo medici grande importanza al ruolo dei medici ovviamente perché questi signori avevano bisogno di avere un'assistenza all'inizio non esisteva un'assistenza sanitaria fornita dalla società ogni malato con il sussidio che riceveva doveva pagarsi il suo medico poi subentra invece l'idea di avere un sanitario sociale che viene sempre pagato anche dal malato ma in quota molto inferiore e prende uno stipendio annuale un versamento un bonus annuale dalla cassa della società alcuni di questi saranno addirittura dei filantropi nel senso che sì facevano i medici per l'associazione ricevevano uno stipendio poi versavano all'associazione come soccine orario una cifra superiore allo stipendio che avevano ricevuto e così via con la presenza di questi altri personaggi il mutualismo prende anche una dimensione diversa che genericamente definirei culturale nell'articolo 1 del regolamento della società operaria di Torre Pellice il mutualismo è definito mutualismo di sussidio reciproco ma anche di arricchimento culturale reciproco il problema è che finché questo avveniva tra persone di cultura bassa non portava molto lontano quando quando cominciano ad arrivare dei signori come il Bert di qui sopra di alta levatura intellettuale diciamo che una parte consistente dei soci cerca di adeguarsi cerca di adeguarsi comincia a leggere per esempio i libri della biblioteca che Bert ha fondato e regalato all'inizio all'associazione e così via cominciano a leggere libri di tecnica su come fare bene il proprio mestiere ma cominciano a leggere anche letteratura letteratura quasi sempre moraleggiante ma questo è un altro discorso legato appunto a quell'aspetto che dicevo prima di influenza molto forte di certe forme filantropiche anglosassone che erano diciamo i primi segnali di quello che poi diventerà il socialismo utopistico